Vi parla da Augusto e siamo all'incrocio fra il cosiddetto lungomare Rossini che è qui davanti a me e la via delle Saline. Questo è un incrocio nodale perché ci sono parecchi automobili che vanno in un senso e nell'altro. E qui come vedete proprio questo punto che è un anglio vitale, questo punto nodale, c'è un cassonetto, solo uno, cassonetto per i rifiuti soliti urbani, RSU. In effetti potrebbe esserci un altro, soprattutto nel periodo delle feste e soprattutto tra sabato e domenica perché non c'è la raccolta dei rifiuti da parte della ditta Pastorino. Il risultato è questo, voi lo vedete qui, la luce è scarsa ma insomma si vede quello che succede e non vi dico la puzza in questo momento, stiamo avvertendo sia l'operatore della ripresa sia io, ma perché c'è tutto questo? Qualcuno potrebbe mandarsi e rispondere. Per chi sono i cani? I cani randaggi. Altro problema di Augusto su cui siamo intervenuti più volte, su cui ci sono anche molte lamentere da parte dei cittadini. Allora la risposta potrebbe essere semplice, non possiamo sempre criticare le amministrazioni comunali che si avvicendano o la ditta Pastorino anche se un altro cassonetto qui non farebbe male. Ce ne sono due, uno un po' più avanti, quasi sempre semiguoto, un po' più avanti e altri ancora più avanti. Quindi chi passa con l'automobile, perché spesso passano appunto venendo dalla contrada Monte e si fermano qui, non appena vedono che il cassonetto è strappiero potrebbero fare con l'automobile due passi in più e gettare i rifiuti nei cassonetti evitando questo scempio, questa cosa disgustosa che non fa onore né a chi, e naturalmente lascia a terra i cassonetti, non fa onore alla città di Augusta. A questo punto allora cosa bisognerebbe fare? Mettere delle camere e punire gli incivili con le multe? Ecco, non voglio arrivare a questo, però facciamo l'autocritica, facciamo un esame di coscienza, rivolgiamoci, guardandoci allo specchio, a noi stessi, i cani, ecco sono lì, dice, lo possiamo inquadrare quel cane per favore? Ecco, là c'è un cane, un cane che normalmente ha fame, uno dei tanti cani randaggi che sono in zona, appena sente l'odore del cibo, dei risidui di cibo che sono nei cassonetti, è chiaro che il cane fa scempio dei sacchi che sono buttati a terra, o addirittura, come qualcuno ha ipotizzato, fa un balzo, se i sacchi sono proprio qui, prende uno dei sacchi, lo butta a terra e lo apre, fa medicamente perché ovviamente ha fame. Allora, ripeto, sono a cassoletti un po' più avanti, uno di questi, il primo, è quasi sempre semivuoto, facciamo questo piccolo sforzo, questo sacrificio, non sono stato pagato dall'amministrazione comunale, state attenti, lo faccio da cittadino, da critico, come sempre, anche in questo caso nei confronti degli abitanti di Augusta. Grazie allora, se volete ascoltarmi. Grazie.